Lunedì, la pressione non è forte, la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e da precipitazioni a tratti temporaleschi possibili su gran parte delle regioni. Martedì, goccia fredda ancora in azione, pertanto la giornata trascorrerà con un tempo instabile con rovesci temporaleschi possibili ovunque, ma a carattere irregolare. Lunedì, la pressione diminuisce e così dopo una mattinata in gran parte stabile, nel pomeriggio ci saranno temporali su Toscana, Appennini e zone vicine ad essi. Clima estivo. Martedì, tempo via via più instabile, per cui dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Toscana, Umbria e Marche, meno probabili altrove. Caldo gradevole. Lunedì, nonostante la pressione sia in diminuzione, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, soprattutto sulla Sicilia. Martedì, la pressione è in diminuzione pertanto in questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso e ci saranno alcuni piovaschi su Puglia Centrale e Appennino Calabrese. In accolita, nonostante l'ammane ad actrinnere, nonostante l'ammane ad assolutivo, ma il nonostante l'ammane. 첫